Buongiorno a tutti sono il sindaco di Seregno mi chiamo Alberto Rossi e sono molto orgoglioso di annunciare che il comune di Seregno da oggi è accessibile per tutte le persone sorde grazie ai sistemi interpretariato in lingua dei segni visit live questo significa che da oggi qualsiasi persona sorda senza preavviso può venire in comune e subito viene dotato di un tablet con cui viene messo in contatto con un operatore che si esprime in lingua dei segni e può interagire per qualsiasi necessità con tutte le attività della macchina comunale. Buongiorno, buongiorno un attimo che attiviamo il tablet, un secondo, come collegamento. Buongiorno e benvenuti in visit live, come posso essere utile? Bene, volevo chiedere delle informazioni, ho difficoltà a trovare casa, volevo sapere se il comune mi può aiutare in questo, se c'è qualche bando attualmente aperto, pubblico. Sì, il prossimo bando aprirà alla metà del mese di marzo, quindi dovrà aspettare il bando. E dove posso provarlo? Allora, troverà tutte le informazioni sul sito del comune di Serenio, sul sito internet dove verranno pubblicate le documentazioni necessarie e quanto richiesto per presentare domande. Maggi, grazie. Allora assolutamente cercherò. Nel caso posso tornare qui per chiedere ulteriori chiarimenti, se ho dei dubbi? Sì, certo, noi siamo aperti qua ai servizi sociali tutte le mattine, dal lunedì al venerdì e due pomeriggi, il martedì e il giovedì pomeriggio. Per qualsiasi informazione. Molto bene, perfetto, grazie molte. Grazie per aver usato visit live, arrivederci. Grazie. Grazie a tutti. Grazie per la visione! Grazie per la visione!